La Cool Design nasce circa 11 anni fa, è una mia ditta, ci occupiamo di grafica e di progettazione grafica in generale, nasciamo come piccolo studio grafico di produzione di siti web, grafica 3D e animazioni anche digitali. Da poco, da più di un anno, è nata una bella collaborazione con Marco Matteucci, oggi fa la parte del team della regia, nell'ultimo anno abbiamo iniziato a fare diverse produzioni, sono andati dei video allo stadio olimpico per delle pubblicità per il nostro cliente. L'obiettivo del video studio, quindi dello studio Cool Design, è quello di portare produzioni da fuori, su Terni, è quello di utilizzare soprattutto maestranze locali, diciamo che è importante per Terni una cosa di questo genere. Abbiamo dei dati di posa che sono meravigliosi, oggi siamo qua nel più piccolo e sembra enorme, perché per chi come me ha sempre sognato di entrare dentro oggi è veramente una grandissima soddisfazione. Ecco, il nostro scopo è questo, è quello di di portare un po' di lavoro differente a Terni in ambito cinematografico, una cosa che è stato un sogno di 30 anni fa, oggi cerchiamo di farlo diventare realtà il più possibile, ci proviamo con le nostre forze. 30 anni fa fu coniato lo slogan dall'immagine della fabbrica alla fabbrica dell'immagine, ti ci ritrovi? Sì, mi ci ritrovo, diciamo che è un po' il claim di Good Design, anche questo l'immagine è importante, oggi è tutto, noi chiaramente ci andiamo a rivolgere anche a quelle aziende che hanno bisogno di questo tipo di servizio video pubblicitario, promozionale, ci siamo posti a un livello alto, le maestranze che abbiamo, tutti i locali sono maestranze qualificate che consentono di fare questo tipo di lavorazione, quindi sì, ti direi di sì, mi ci ritrovo a pieno.